Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, un'edizione del nostro tv giornale come sempre in aggiornamento rispetto all'emergenza coronavirus per capire il numero dei contagiati di Ferrara che vedremo cresce come in tutta la regione anche se vanno letti in una chiave positiva come ci ha spiegato poco fa il commissario Venturi. Poi sentiremo anche l'appello del prefetto di Ferrara nei confronti delle aziende di alcune aziende ferraresi che non dovrebbero tenere aperte le fabbriche e le aziende ma invece dovrebbero chiudere in quanto non essenziali cercheremo di capire il perché e poi naturalmente andremo sugli aggiornamenti anche rispetto a una polemica che è nata insomma in città a Ferrara che vede diverse figure tra cui appunto l'arcivescovo contro un consigliere della Lega in Comune e vedremo il perché. Allora dicevamo che poco fa dobbiamo aprire con il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legge che introduce sanzioni più dure per chi viola le norme anticontagio da coronavirus e uniforma il quadro normativo. Questo è quanto riferito tramite una diretta da parte del Premier Conte che si è tenuta appunto nel tardo pomeriggio. il Premier ha spiegato che la multa per chi viola le regole anticontagio salirà da 400 a 3.000 euro e naturalmente spiegando anche altri dettagli ai giornalisti che hanno partecipato alla conferenza tramite naturalmente internet e le piattaforme per poter fare le domande a distanza. Inoltre il Premier ha anche spiegato che non c'è nessuna proroga emergenza al 31 luglio ha spiegato Conte è solo uno spazio teorico ma ho fiducia finisca prima ha sottolineato Conte. Naturalmente poi torneremo a capire insomma a valutare il decreto nei prossime ore. Intanto come dicevamo in questo decreto c'è un inasprimento delle multe quindi un giro di vite che è stato annunciato però anche a Ferrara dal prefetto Michele Campanaro soprattutto sul controllo delle aziende. Il prefetto ha annunciato a Telestense che sta per essere messa in piedi una task force speciale per controllare le aziende che possono realmente proseguire la loro attività dopo il decreto Conte di domenica scorsa quando è stata stilata la lista delle produzioni ritenute essenziali sulle quali tra l'altro c'è anche un po' un braccio di ferro in corso con le aziende e i sindacati. Intanto la Camera di Commercio di Ferrara annuncia che è disponibile sul sito registroimprese.it la visura gratuita online per l'individuazione del proprio codice ATECO che è quello che insomma individua e fa già una prima da una carta di identità alle imprese che possono essere ritenute essenziali o meno. Il prefetto che fa appello al senso di responsabilità delle imprese ferraresi con un appello molto accorato in questa fase emergenziale. Sentiamo. Dopo aver richiamato al senso di responsabilità tutta la comunità e i cittadini invocando il principio del restate a casa in questo momento desidero rivolgermi specificatamente, espressamente al mondo dell'impresa qui del ferrarese perché sappiamo che l'ultimo provvedimento, quello assunto dal governo domenica scorsa tocca e colpisce sì il settore produttivo, industriale e commerciale e chiede dei sacrifici però li chiede a ragion veduta. Chiedo la responsabilità del settore dell'economia ferrarese di quello dell'industria, di quello del commercio, di quello dell'artigianato di quello dei settori produttivi che in genere non sono ricompresi nel elenco al decreto del 22 che ha autorizzato soltanto 80 i cosiddetti codici a teco 80 categorie rispetto alle quali potrà essere garantita la prosecuzione delle attività perché è riconducibile ai servizi essenziali. Stiamo riscontrando una mole, una massa enorme di comunicazioni qui in prefettura che mi, se mi è consentito, spaventano non poco perché mi fanno intendere che c'è stata evidentemente o una cattiva interpretazione del provvedimento o, peggio ancora, mala fede. E allora su questo io dico qui apertamente da voi attraverso i vostri canali che noi passeremo a settaccio tutte le comunicazioni che arrivano qui in prefettura. Lo facciamo avendo costituito, questa è la notizia dell'ultima ora, avendo costituito un gruppo di consultazione che affiancherà la mia attività personalmente, costituito da vertici, da rappresentanti delle forze di polizia, quindi Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche da tecnici, profili dirigenziali altamente qualificati della Camera di Commercio, della provincia e del comune capoluogo. Questo gruppo di consultazione si riunirà ogni giorno a partire da domattina per esaminare le comunicazioni che arrivano qui, prenderli a settaccio e, ove riscontrassero eventualmente delle mancanze rispetto ai principi riconosciuti dal decreto del Presidente, sottoborranno queste a me personalmente perché si vada nella direzione della sospensione di quelle attività produttive. Aggiungo che questa è la sanzione minima perché io valuterò, io personalmente, se nell'ambito dell'attuale vigente quadro giuridico e ordinamentale ci sono anche altri spazi di applicazione di altre sanzioni anche più gravi. Non ultime quelle di invocare con le associazioni di categoria a cui appartengono quelle imprese anche l'applicazione del rating di legalità, cioè l'espulsione dalla stessa associazione di categoria. Per cui in poco il pieno senso di responsabilità del mondo dell'entrata attraverso i vostri canali. Allora, come avete sentito, davvero un appello, insomma, duro nei confronti delle imprese che non stanno rispettando appunto il decreto. Quindi ulteriori controlli molto severi. Ora parliamo della parte legata alla sanità. Per fare un po' anche il punto, dall'inizio di questa emergenza che è iniziata a ferrare il 24 febbraio, oggi è il 24 marzo e quindi ad un mese esatto, diciamo così, dall'inizio dell'emergenza, da quando è stato individuato il primo contagiato, la sanità pubblica ha sottoposto a sorveglianza un totale di 1186 persone per 530 di loro, quindi poco meno della metà, la sorveglianza si è già conclusa. Il totale dei tamponi positivi sempre in questo mese, quindi il numero dei ferraresi che sono rimasti contagiati di 190, 18 più di ieri, quindi rispetto a ieri sono aumentati di 18 casi, mentre purtroppo sono 13 le vittime in totale appunto registrate sul territorio ferraresi. I dati aggiornati a livello regionale parlano di 9.254 casi positivi in tutta l'Emilia-Romagna, 719 in più rispetto a ieri, i casi lievi in isolamento a domicilio sono 3.992, mentre si registrano 558 guarigioni. I dati che però spiega il commissario Sergio Venturi sono da analizzare in chiave positiva. Sentiamo il perché. Posso sostenere che i dati di oggi sono dati in gran parte positivi con qualche elemento naturalmente negativo che come sempre sono quelli delle persone decedute, fosse anche una sola. Però posso raccontarvi di un incremento, ve lo dico subito, di un incremento di oggi che è inferiore all'incremento di ieri e anche è inferiore all'incremento del giorno prima, quindi di sabato, diciamo che potrebbe essere un'inversione di tendenza e naturalmente dobbiamo sempre stare sul chi va là, non mollare, tenere la guardia alta, ma insomma è un dato che mi sarebbe piaciuto anche ieri potervi dare e invece lo do oggi perché questo è un decremento molto significativo. Abbiamo 9.254 casi di positività al coronavirus, 719 più di ieri, ricordate ieri avevamo un dato di più 980, quindi una diminuzione significativa, abbiamo refertato 2.327 campioni di test e di questi 9.200 circa pazienti che sono positivi sono quasi 4.000 le persone che sono in isolamento a casa loro, quindi è un dato che anche questo ci conforta e un altro dato che ci conforta è che nei dati di oggi sui tamponi abbiamo diversi, la maggioranza sono negativi, abbiamo avuto un periodo in cui quasi tutti i tamponi erano positivi, quelli che facevamo, il dato di oggi è un dato nel quale invece c'è anche qui un'inversione di tendenza significativa, abbiamo più negativi che positivi, tutte buone notizie finora. E naturalmente speriamo che queste buone notizie insomma tengano, siano il trend dei prossimi giorni. L'importante, lo ricordiamo, è restare a casa come stiamo dicendo oramai da settimane. Cambiamo argomento, chiamato dal consigliere comunale leghista Alcide Mosso che aveva chiesto attraverso i social all'arcivescovo di Ferrara Comacchio Monsignor Pergo di giustificare l'assenza di un religioso all'accoglienza delle bare giunte il sabato scorso da Bergamo in città per trovare sepoltura nella certosa di Ferrara. Arriva oggi il comunicato stampa della diocesi con la lettera inviata domenica al sindaco di Ferrara da Monsignor Massimo Manservigi, vicario generale, che chiarisce le ragioni dell'assenza. La diocesi non era stata informata, dice il comunicato, che invita anche il consigliere Mosso ad informarsi prima di lanciare insinuazioni accuse gratuite e senza fondamento. Sentiamo. In un momento di grave emergenza nazionale, di giorni difficili per tutti, particolarmente dolorosi per chi ha perso i propri cari, senza neppure il conforto dell'ultimo saluto, l'offerta del sindaco di Ferrara Alan Fabri di accogliere le bare da Bergamo, città duramente approvata dall'epidemia, ha riscorsi in questi giorni il consenso silenzioso della cittadinanza ferrarese e meritato la commossa lettera di ringraziamento che il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha scritto oggi ad Alan Fabri e che noi abbiamo pubblicato integralmente sul nostro sito. La vicenda, toccante per il senso di umana pietà da cui è stata ispirata, ha avuto però uno spiacevole strascico polemico legato all'indignazione resa esplicita da alcuni post di esponenti dell'opposizione politica cittadina di centro-sinistra nei confronti della scelta di sindaco e vice-sindaco di mettere su Facebook la diretta dell'arrivo delle bare e della mesta cerimonia funebre alla quale entrambi e solo loro hanno partecipato. Il gesto non è piaciuto per la mancanza di sobrietà e forse per un'eccessiva tendenza ad utilizzare a scopo propagandistico il dolore silenzioso di chi ha perso familiari ed amici portati a ferrare per avere dignitosa sepoltura. Tuttavia pubblicare, sempre su Facebook, con toni accesi, la propria indignazione è bastato per innescare la reazione di un consigliere leghista che sui social non si è limitato ad elogiare pubblicamente la pietà dei due amministratori, biasimando gli avversari, ma si è detto dispiaciuto per non aver visto la presenza di una rappresentanza religiosa ai funerali, dichiarandosi in attesa di una nota a riguardo di Monsignor Pergo. La nota, arrivata con la velocità del web, ristabilisce senza ombre la verità dei fatti, chiarisce che la diocesi non è stata informata dell'arrivo delle bare, si dispiace di questa mancata collaborazione fra amministrazione comunale e diocesi e chiede la cortesia al sindaco di essere avvisati in caso ne giungano altre. Aggiunge infine che il sindaco gentilmente ha risposto che in futuro avviserà che credeva che la diocesi sapesse dell'accoglienza delle bare. E in questi giorni di emergenza coronavirus una delle difficoltà dei cittadini è quella di entrare in contatto con il personale medico. Allora quali sono le informazioni utili da sapere? A questo e ad altro ci ha risposto il dottor Bruno Di Lascio, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Ferrara. Sentiamo. Dei rapporti con il medico di famiglia che in questo periodo sono diventati problematici per molti e capiamo ovviamente il motivo. Molti cittadini dicono di non riuscire a parlare con il proprio medico neppure al telefono per avere anche chiarimenti, un'indicazione. Ecco, l'Ordine che cosa risponde in tal senso? Allora, mi dispiace che ciò avvenga o sia avvenuto o che possa ancora avvenire, però ritengo che sia in un caso limitatissimo di situazioni. Allora, se si ritiene invece che queste condizioni siano eccessive o qualcuno si trovi in angoscia o in ansia, bene, metto a disposizione il mio numero di cellulare personale. 335-8281-928. Più di così. Parliamo insomma del fatto che oggi più che mai la nostra salute è legata ai professionisti appunto della sanità che però sono anche più esposti al contagio. Ecco, quali sono le misure secondo lei che possono dare sicurezza a chi lavora negli ospedali e nei vari presidi sanitari? Quindi parliamo di ambulatori ma anche residenze per anziani e via discorrendo. Ma ritengo che da parte delle strutture siano state adottate le misure possibili e realizzabili per garantire la sicurezza di tutti, però con i mezzi di protezione e disposizione a disposizione se e in quanto reperibili, perché c'è l'annoso problema della disponibilità di questi mezzi. Ecco Presidente, parliamo adesso invece di un bel gesto che è venuto in questi giorni perché gli ordini dei medici, odontoiatri, ostetriche e tecnici delle radiologie, vi discorrendo, hanno donato al laboratorio analisi dell'ospedale di Cona il noleggio per un anno di un sistema per fare qui al Sant'Anna le analisi sui tamponi eseguiti secondo i protocolli. Quindi insomma siete apprezzati un po' da tutti, credo, ma tutto questo è già in funzione? Allora la direzione ha già assicurato anche pubblicamente che il percorso è stato iniziato e da domani si dovrebbe attivare quello che stabilirà il laboratorio alla direzione del generale del Sant'Anna relativamente ai percorsi da fare per i tamponi. Ecco ricordiamo che tutta l'intervista del dottor Bruno Di Lascio è pubblicata integralmente sul nostro sito internet. Sostegno via Skype per aiutare persone con dipendenza patologica è quello attivato dal Servizio per la Prevenzione e Cura delle Dipendenze Patologiche, quindi il CERD del Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara nell'ambito delle iniziative organizzate dall'azienda USL in questo periodo di emergenza da Covid-19. Non da soli, insieme a distanza, il nome del servizio attivo a distanza che vuole aiutare le persone appunto con queste dipendenze, un'iniziativa che ha lo scopo di favorire un contatto con un operatore di strada del CERD per fornire indicazioni su come affrontare disagi legati all'astinenza o altre difficoltà di tipo psicologico che si possono manifestare nella situazione di isolamento causata dall'emergenza. In questo modo le persone non devono recarsi al servizio ma mettersi in contatto telefonicamente. E lontano ma vicini anche questo è un altro servizio, un nuovo progetto però di riabilitazione a distanza del San Giorgio e dell'ospedale di Cona che ha preso il via lunedì 23 marzo. Vediamo. Con l'arrivo del coronavirus si è vista la necessità di interrompere i trattamenti di riabilitazione riservata ai pazienti esterni e di ridurre drasticamente l'accesso dei familiari e i reparti di degenza degli ospedali. Per questo motivo la riabilitazione San Giorgio dell'ospedale di Cona ha avviato il progetto Lontani ma Vicini per offrire una continuità nella risposta ai bisogni dei pazienti, attivando la presa in carico dei pazienti a distanza grazie all'utilizzo di tecnologie informatiche. Grazie a una webcam e a un software di teleconferenza di uso comune, il personale della riabilitazione può così collegarsi con il paziente per un consulto per monitorare lo stato funzionale e per proporre esercizi di mantenimento da eseguire al domicilio con supervisione. In questi giorni il personale sta provvedendo a contattare i pazienti a cui è stato sospeso il trattamento motorio e cognitivo che svolgevano presso il Day Hospital e il modulo di neuropsicologia della medicina riabilitativa per produrre l'oro di aderire a questo progetto. Per i pazienti ricoverati nelle degenze del reparto di gravi cerebrolesioni e medicina riabilitativa verranno anche istituite nei prossimi giorni delle postazioni informatiche per consentire videochiamate con i familiari e per poter effettuare le riunioni con un team riabilitativo all'interno del progetto di riabilitazione previsto. Il San Giorgio si sta anche attrezzando per consentire pazienti non autonomi nella gestione dei dispositivi come ad esempio quelli con esiti di grave cerebrolesione acquisita di poter comunicare con i propri cari utilizzando tablet o smartphone assistiti da personale dedicato. Iniziative che hanno come obiettivo quello di cercare di essere d'aiuto sia per facilitare la presa in carico riabilitativa dei pazienti che per migliorare la comunicazione con i familiari. Allora prima di chiudere vi ricordiamo che l'Ilt Ferrara e Telestense hanno attivato sino al 3 aprile una raccolta fondi pubblica per l'acquisto di saturimetri per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue e altro materiale medico destinati al reparto di degenza dell'unità operativa complessa di malattie infettive Covid-19 dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara. Sul sito naturalmente anche tutto il codice IBAM per raccogliere fondi ricordiamo fondi che servono per importanti per questa donazione. Prima di chiudere un aggiornamento per quanto riguarda una meteo il meteo per un'allerta gialla con l'arrivo anche della Bora un mare agitato a largo eventi forti sulla costa temperature inferiori alla media e cumuli di neve nelle zone collinari e montane quanto prevedono sia ARPA-E che protezione civile regionale che lanciano quindi l'allerta gialla in Emilia-Romagna che è valida dalla mezzanotte del 25 marzo fino alla mezzanotte del 26 marzo. Quanto al mare e quindi insomma soprattutto per la costa lo ricordiamo zona Comacchio e quant'altro sarà agitato a largo con altezza dell'onda compresa tra i due metri e mezzo e i 3,2 metri. La concomitanza di onde e marea potrà determinare fenomeni di criticità costiera quindi naturalmente molta molta attenzione. Allora chiudiamo qua il nostro tv giornale vi ricordo naturalmente che per tutti gli aggiornamenti il nostro sito internet elessenze.it la pagina facebook e il nostro canale youtube. Grazie di essere stati con noi arrivederci. Grazie a tutti.